ancora a Clistene è attribuita una procedura che a noi può apparire molto curiosa che è quella dell'ostracismo la parola ostracismo deriva da ostracon vale a dire il frammento di ceramica sul quale ciascuno all'interno dell'ecclesia scriveva il nome di un cittadino ritenuto nemico degli interessi del popolo era una misura precauzionale, si voleva cioè proteggere in qualche modo l'equilibrio democratico contro le ambizioni di personaggi particolarmente influenti e potenti che si temeva potessero mirare alla tirannide l'ostracismo non aveva bisogno di fondarsi su alcuna denuncia, su alcuna prova, alcun reato bastava il semplice sospetto se all'interno dell'assemblea, che doveva avere un quorum di 6.000 votanti la maggior parte di questi votava per ostracizzare un cittadino questi aveva tempo 10 giorni per andarsene per un periodo di ben 10 anni in realtà questi 10 anni potevano essere ridotti con una nuova delibera dell'assemblea non si trattava di un esilio perché l'esilio implicava la confisca dei beni implicava l'assegnazione a una sede prestabilita ed era perpetuo l'ostracizzato invece aveva piena libertà di movimento a parte ovviamente il territorio di Atene e non subiva la confisca dei beni inoltre la sua famiglia non rimaneva disonorata tant'è vero che al termine di questo periodo poteva rientrare in città riprendere le sue attività e intraprendere se voleva l'attività politica